Guardatela! Abbiamo raggiunto la fabbrica di Rod su Evil Nun The Broken Mask! E si ritorna cari amici su Evil Nun The Broken Mask, il gioco della madre del gelataio di Ice Cream su PC! Oggi torniamo qua perché finalmente andremo ad esplorare la fabbrica di Rod il gelataio! Andiamo subito in partita, ma come sempre lasciate qui sotto tantissimi like! Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale con la campanella attiva! Adesso direi di partire cominciamo, andiamo subito in partita! Allora, per chi lo sapesse qua, all'interno di questo gioco compare proprio la fabbrica di Rod! C'è proprio qua! E se vi faccio vedere tutto quanto, ed è possibile raggiungerla grazie ad un bug! È bellissimo, è spettacolare! Vabbè, per chi segue il canale inglese sa già di che cosa sto parlando! Perché lì comunque sto portando praticamente tutti i giorni, Evil Nun The Broken Mask! Però per chi non segue il canale inglese, se vi faccio vedere tutto, tutto, tutto quanto! Ok, sta caricando, però le mie cuffie mi sa che stanno per partire perché sento tutto scricchiolare! Non so! Vabbè, sono per YouTube! Se ti piacciono horror e divertimento, sei nel canale giusto! Infatti qua faccio sempre video su giochi horror perché i giochi horror sono la mia passione! Mamma mia, sto rumore! Fa prendere sempre un colpo! Ogni volta che lo sento mi viene sempre un colpo! Intanto la sua retta, che è qui che sta pregando! Lei è la madre di Rod! Sister Madeline! Sempre più incattivita! Ha rapito tanti bambini, li ha rinchiusi nella lavanderia e toccherà a noi doverli salvare! Adesso, vediamo se riesco a trovare subito il fusibile! Ok! Ho perso un sacco di tempo in sta parte! No! E sì, perché quando registro con la voce, ormai lo sapete che tendo un po' a perdere tempo! Vabbè, ma lo faccio perché voglio rendere il video più divertente! Nel canale inglese non parlo, quindi lì non riesco a fare tipo determinate battute! Ma qui invece posso divertirmi? Ma l'avete vista la nostra cara Sister Maddalena? L'avete vista? E mi sa che tanto fra poco la rivediamo perché ho fatto rumore! Suoretta! Ma che piacere rivederti! Ma che bello stare con te, cara Sister Maddalena! Allora, come stai? Spero tutto bene! Spero che stai alla grande! Anche io sto tanto tanto bene! Eh sì! Vabbè, adesso proseguiamo di qua con la nostra bella partitella! Vai! Mi raccomando, se volete vedere altri video di Evil Nand, Broken Mask, lasciate veramente tantissimi like! Supportate la grade questa serie perché ci sono un sacco di segreti! Ma soprattutto c'è una lore pazzesca su questo gioco che soltanto pochi di voi si sarebbero immaginati! Ma proseguiamo! Andiamo sempre di qua! Apri la porticina! Adesso vi faccio vedere proprio qua! Attraverso questa cosa! E mi sa che si vedrà poco e nulla perché è nuvoloso! Ma dai, ma il cielo è nuvoloso pure qua nel gioco! C'è cielo qui fuori! Se io mi affaccio qui fuori dal mio balcone c'è il cielo è nuvoloso! Ed eccola qui! La fabbrica di Rod Sullivan! Vedete se riesco a zoomare? Sì, posso zoomare più o meno! Vabbè, si vede veramente poco! Ma tanto fra poco la raggiungeremo! Andremo proprio lì a camminarci! È possibile raggiungerla! Però c'è un problema! È troppo, troppo difficile! Cioè, riuscire qui a scavalcare queste montagne non è per nulla facile! Non è stato per nulla facile per me! È stata veramente un'impreda! Ma si ce la può fare! Tra l'altro adesso stavo facendo caso qua! Ma c'è una strada segreta! Qui, guardate! Ma c'è una stradina qui sopra! No, devo assolutamente esplorarla! Eh, cos'è? Ci sono le strade segrete? Devo vederle! Non in questo video! Però in futuro dobbiamo vedere che cosa c'è! Tra l'altro, per raggiungere la fabbrica di Rod! Ci ho impiegato un'ora e mezza! Perché è facile cadere! Una volta caduti, e niente, c'è il danno da caduta! Bisogna rifare da capo! Ci sono anche tanti muri invisibili! Non so perché hanno tipo tappezzato sta montagna di muri invisibili! Però dopo un'ora e mezza sono riuscito ad arrivarci! E adesso devo cedere tutto, tutto quanto! Ma prima voglio farvi vedere appunto come uscire fuori dalla mappa! Perché è possibile farlo! Quindi, andiamo subito di sopra! Dobbiamo innanzitutto rompere il vetro! Il vetro, vabbè, sapete no? Di quale vetro sto parlando! Quello che soltanto i piccioni possono rompere! Quindi scendiamo subito sotto! Recuperiamo immediatamente la pala! Quindi via! Più! Che bel volo! Un volo da piccione proprio abbiamo fatto! Ok, vabbè, andiamo qua e muovi! Non ti incastrare qui in mezzo a ste panchine! Mi ricordo che anche su Ivo Nan 2, quando entravo nella chiesa, mi incastravo sempre fra le panchine e fra i vari oggetti! Ma dai! Cioè, veramente! Ma fatele comunque praticabili ste chiese qua nel gioco! Che poi è la stessa chiesa di Vol Nan 2 questa! Solo che qua su PC l'hanno fatto a più horror! Perché hanno dovuto adattare la mappa appunto ad un gioco horror per PC! Ma è sempre la stessa chiesa! Soretta! Maddalina, cara! Sei di qua! Non è di qua! Meno male! Meno male! Tanto fra poco scenderà! Me lo sento! Perché tanto adesso! E vabbè, faccio vedere! Vado di qua! Faccio rumore! Ma tanto noi prendevo la scorciatoia! Perché adesso dobbiamo pure recuperare un altro oggetto! La borraccia con la pozione del gatto! Che ci servirà appunto per uscire fuori dalla mappa! Vai! Ah ah ah! Adesso è per far prima! Andiamo di qua! Scendiamo da questo lato! Niente! Il picciore spaventato ha rotto qualcosa nella scuola! Ha rotto la finestra! Vai! Meno male che esistono questi materassi! Così possiamo scendere tranquillamente! Ok la sua resta di qua! Non è di qua! Meno male! Meno male! Andiamo! 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 Andiamo qui sotto! E recuperiamo la cat potion! La pozione del gatto! Tanto qua possiamo ammirare ancora meglio il panorama! La vedete? Quella città! Quella lì! L'abbiamo pure esplorata nel canale inglese! Sono proprio andato lì! All'interno di questa città! E questa qua! Adesso vi faccio vedere! Mare appena ce la faccio! Questa! E la stessa città di Ice Cream! Metal Enforce! E' proprio quella! La città di Ice Cream! E' bellissimo! C'è veramente! E c'è una lore pazzesca su questo gioco! Ci sono tante cose che si potrebbero fare! E a me dispiace veramente un sacco non poterle fare qui in Italia! E ma dai! Vabbè! E pratichiamo dai! Vediamo! Speriamo che almeno quel video dedicato alla fabbrica di Rod possa comunque piacervi! Perché è veramente una grande curiosità! Soltanto in pochi sono riusciti a raggiungerla! Anzi vi dirò di più! Io sono l'unico che è riuscito a raggiungere la fabbrica di Rod tramite bug! Perché tutti quanti hanno utilizzato i cheat! E io sono l'unico che non sta usando i cheat in questo gioco! Cioè no! L'ho usato soltanto per completare la maschera! Perché è quella per forza! Però per potermi muovere all'interno della mappa! Sono l'unico che non ha usato cheat ma ha utilizzato soltanto dei bug! E adesso siamo subito fuori di corsa! Ok! Sister Maddalena! Non state a queste parti! Quindi possiamo correre! 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 Veloce! 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 Appena ce la fai! Che qua! Dai su! Muoviti! Muoviti qui a camminare! A camminare velocemente! Ok! Adesso vi faccio vedere appunto come si esce fuori dalla mappa! Perché non è facile! Cioè no! In realtà è facile! Una volta che voi avete rotto quel vetro e avete in mano la cat potion è facile uscire fuori dalla mappa! Via! Vedete? Il buon panino vi mostra pure i bug dei vari giochi horror! E ok! Ah ah ah! Siamo qui fuori! Allora innanzitutto dovete bere questa pozione così! Perfetto! Dopodiché la lasciate e fate una bella corsa sopra questa balaustra! Cercando di non prendere appunto il muro! Ok! E siamo usciti fuori dalla mappa! Siamo usciti di qua! Ma che bello! Adesso poi dovete seguire questo passaggio! In realtà due volte dovete farlo! La prima volta dovete andare proprio di fianco a questo albero! Dopodiché andate sempre di qua! E verrete fra poco teletrasportati sul tetto della suora! Infatti adesso vi faccio vedere! Vado proprio con calma! Ma fra poco verrò teletrasportato! E faccio con calma! E infatti come vi dicevo! Dopodiché! Ecco! Mi fermo un attimo! Dopodiché! Rifate di nuovo lo stesso procedimento! La seconda volta! Non sarete teletrasportati! E potrete proseguire tranquillamente fuori dalla mappa! E adesso vi faccio vedere! La fabbrica di Rod! Ho registrato già la clip per il canale inglese! Quindi adesso andiamo a vedere com'è tipo video reaction! Per esempio quello! No! Non cambia mai la fabbrica! Non mi metta a rifare di nuovo lo stesso percorso! Perché veramente è stata un'impresa! E niente! Ok! Questo qua è praticamente il video che ho registrato io! No! Lì davanti potete vedere che c'è la fabbrica di Rod! Quindi adesso vediamo qua! Se si toglie sta cornice che vorrei vederla a grande schermo! Vediamo così se va! Vabbè! Niente! Non si vuole togliere la cornice! Perfetto! Allora! Come vi dicevo! Non è stato facile! Infatti guardate proprio qua com'è il percorso! Tutto quanto montuoso! E vi ricordo che qua c'è il danno da caduta! Quindi basta veramente poco per scivolare! Cadere nel vuoto! E dover ricominciare tutto da capo! E sì perché vediamo! Veniamo respawnati all'interno della stanza di inizio! Quindi bisognerebbe rifare tutto tutto quanto da capo! Ok! Adesso camminiamo! E andiamo a vedere questa bella fabbrica! Guardatela! E abbiamo raggiunto! La fabbrica di Rod su Evil Nand e Broken Mask! E poi ho avuto questo piccolo problema perché non riuscivo a superare questo scoglio! E non è stato facile! Ed eccola qui la fabbrica di Rod! Vediamola meglio! Vediamo se si riesce a vedere meglio tutto quanto! No! Non si riesce a vedere niente di nolla! Da questo lato! Potete ammirare appunto la fabbrica di Rod qui su PC! Ma è bellissimo! Ok! Vediamo di qua se c'è qualcosa! Ah! L'avete vista quella città? Quella è la città di Metal Inforza! La città di Ice Cream! Proprio uguale! La stessa! Però vedete cosa c'è? Manca praticamente il fiume! Quello che sta di lato! Vabbè! Qui è stata aggiunta come decorazione! Però dai! Sarebbe stato carino vedere qualcosa di bello completo! E adesso lo andiamo ad esplorare! Cioè a vederla sembra praticamente un edificio abbandonato! Ma in realtà qui la fabbrica era ancora più attiva rispetto a quando siamo su Ice Cream! Questa sarebbe tipo la zona della centrale idroelettrica! Da lotare tutto quanto in questo modo! Va bene no? Poi da quest'altro lato si si può praticamente penetrare dentro la fabbrica! I muri sono invisibili! Tranne in centro! In centro i muri non erano per nulla invisibili! Però vorrei tipo ritornarci la seconda volta! Per vedere tramite il bug della telecamera! Che cosa c'è effettivamente dentro! Perché in questo modo noi possiamo proprio vedere che cosa c'è! Guardate qua il garage di Rod! Ma è spettacolare sta cosa! È veramente bellissimo! Ok io però adesso mi faccio un'altra domanda! Ma se davanti c'è subito un burrone! Cioè il furgone cadeva subito! Dove va che non c'è neanche una strada! Ma dai! Vabbè! Che roba! Da questo lato possiamo praticamente vedere ancora meglio sia il panorama! Perché guardate lì che bel panorama che c'è! Ma anche il garage di Rod! Purtroppo come vi dicevo prima non avevo i cheat con me! Quindi non potevo neanche tipo salire, volare! Perché non potevo farlo! Però potevamo tipo esplorare in questo modo! È veramente bellissimo! È spettacolare! E veramente sono contento che all'interno di questo gioco ci sia una mappa così enorme! Con tutti questi segreti da scoprire! Tra l'altro la fabbrica di Rod all'interno del gioco ci fa anche presagire un'altra cosa! Potrebbe esserci quindi ice cream anche su pc! Ma dai! Intanto qui che mi muovevo con molta attenzione! Vi giuro io ero in ansia mentre facevo sta parte qua! Perché potevo cadere dal nulla! Era facile cadere! Ma andavo soltanto un po' più avanti! Perché voglio farvi vedere meglio la fabbrica! Ma da questo punto di vista! Qui si vede veramente molto molto meglio! Da questo cucuzzolo! Ed eccola qui! Ammiratela! Ok no no su! E torna con la videocamera lì! Perfetto! Ammiratela! La fabbrica di Rod su Evil Nand e Broken Mask! La fabbrica del gelatoio di ice cream su pc! Ma è bellissimo! È spettacolare! Qui intanto vabbè mettevo le varie impostazioni perché mi serviva l'immagine per fare la miniatura del video! Però qui posso vederla ancora meglio nella sua interezza! Quindi fatemi sapere qui sotto i commenti cosa ne pensate! Ma soprattutto fatemi sapere se vorreste vedere altri video di Evil Nand e Broken Mask! Che li porto molto molto volentieri! Spero che questo video vi sia piaciuto! Se vi è piaciuto mi raccomando spolliciate così vedete! Iscrivetevi al canale con la campanella attiva! Noi ci vediamo i prossimi video! E come sempre vi auguro per se andate e per se andate e per le rette! Ciao a tutti e buon perlino a tutti!